Le camere di commercio sono state direttamente coinvolte nelle attività censuarie per cui forse più di altri hanno la responsabilità di utilizzarli al meglio e di divulgarli al meglio provando a sviluppare delle letture anche innovative che tengono conto di quella che è proprio la nostra peculiarità, il territorio. Oggi infatti parliamo di check up delle imprese, noi proveremo a sviluppare i check up dei territori perché lo vedremo, valgono le reti, valgono le filiere e qui oggi noi proveremo a vedere come questi fenomeni, nuovi fenomeni di aggregazione imprenditoriale si intrecciano con lo sviluppo dei territori e delle comunità.